Una cena in un ristorante Nisseno, poi il malore, l'intervento di un medico presente tra i commensali, vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti sul posto perché l'infarto ha spezzato la vita del tenente colonnello Fabio Pasquariello del comando provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. 57 anni, nato a Treviso, figlio di Carabiniere, ha intrapreso il percorso nell'arma sin da giovanissimo al servizio dello Stato. Poi una volta vicebrigadiere fu destinato a Lignano e a Feletto, Umberto, in Friuli, dove da maresciallo è diventato comandante. Un uomo dell'arma che brillava per il suo acume e le spiccate doti investigative in casi particolarmente complessi, attività a contrasto del traffico di stupefacenti e rapine. Otto anni ad Udine e poi, con il grado di capitano del nucleo investigativo, il trasferimento a Trieste ed infine il nucleo investigativo di Caltanissetta. Una carriera costellata di traguardi, tra i quali l'essere stato insignito dell'alta onoreficenza di Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, decretatogli lo scorso 2 giugno, onoreficenza assegnata dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e consegnatogli meno di un mese fa dall'attuale prefetto di Udine, Massimo Marchesiello.